Il momento dei giornali con Laura Gubetti. Allora, partiamo subito con la Repubblica che in prima pagina mette un numero, questo numero, meno 15% di che cosa si tratta? La previsione del nostro PIL, una previsione semestrale. Il titolo è Il profondo rosso del nostro virus, fatta dall'ufficio parlamentare di bilancio. Così sarà appunto la previsione semestrale e dovremmo arrivare poi a fine anno intorno almeno 8%. Questo naturalmente se ripartiamo, se riparte l'Italia, se ci sarà questa ripartenza, non ci saranno nuovi contagi, nuovi problemi epidemici. Allora, torniamo sul Corriere della Sera che dice mascherine fino al vaccino, una delle tante misure attraverso le quali si ripartirà. Dal punto di vista sanitario sono 5, Conte ha parlato alle Camere, ha esposto appunto una serie di misure che verranno prese per la ripartenza, una di queste sono le mascherine, il distanziamento sociale rimane anche se si riparte il 4 maggio. Poi vedremo come le altre misure, quali sono intanto delle strutture Covid dedicate per evitare nuovi contagi e nuovi focolai pericolosi, ma anche test seriologici. Si parla all'inizio di 150.000, poi altri 150.000 e poi l'app di cui si è parlato tanto per tracciare gli immuni che sarà, detto Conte, su base volontaria. Andiamo sulla stampa, ancora dei dettagli su questa ripartenza. Riparte tutta l'Italia il 4 maggio, cosa significa questo? Non certo che sarà una via libera per tutti, ma che si riparterà in qualche modo tutto insieme, cioè non ci sarà quella ripartenza scaglionata regionale come tanto si temeva, sarà una ripartenza omogenea con provvedimenti che riguarderanno tutte le regioni. È chiaro poi che ogni regione, ma anche ogni singola amministrazione, se vorrà se ci saranno dei problemi emergenziali, potrà mettere misure un pochino più restrittive. Che cosa rimane però? Dal punto di vista regionale rimane il divieto dei trasferimenti tra regioni. Il mattino ci parla ancora di questa ripartenza, perché naturalmente riapriranno aziende, riapriranno uffici, ma per mantenere le distanze, il famoso distanziamento sociale, bisognerà trovare delle scamotage. Uno di questi sono i negozi uffici aperti anche di notte, si parla anche di aperture durante il weekend. Per ripartire c'è bisogno anche di un intervento economico, ha parlato anche di questo. Il Premier Conte, siamo sul sole 24 ore, decreto aprile, si parla di oltre 100 miliardi, si va verso una ricapitalizzazione di cassa depositi e prestiti da 45 miliardi. Vi dico anche che il primo decreto, il Cuore Italia, sarà in Parlamento senza emendamenti, perché sono stati tutti respinti in commissione bilancio. Chiudo con il Fatto Quotidiano, che invece titola così, con la scusa del Covid, un giudice libera e boss. Questo provvedimento è stato preso da un tribunale di Milano. Il Ministero dice che indagherà, mentre il Dipartimento Amministrativo Penitenziario dice che non ci sono state per ora disposizioni riguardanti i detenuti a 41 bis.